Amici e amiche di Sportome, benvenuti dal Bacigalupo per Taormina, Valle del Mela. Gara valida per la terza giornata della seconda fase del campionato Under-19 regionale. Taormina che oggi si può giocare l'accesso da prima della classe alla terza fase del torneo e che oggi si presenta con Giuffrida, Caruso, Caltabiano, Loretto, Onzuso, Viscuso, Rustica, Carta, Di Natale, Briganti e Strano. A disposizione di Ardizione Russo, D'Angelo, Ciliberti, Tosca, Peditto, Freni e Centorrino. Risponde il Valle del Mela con Achille, Rizzo, Isgro, Gerbino, Salvatore Raffa, Niceta, Traorè, Bruno, Scattareggia, Emanuele Pagano e Mattia Raffa. A disposizione di Mister Caligliano, Bertino, Visalli, Ciakai, Marco Pagano, Lucera e Tipaldo. Gara che sarà diretta dal signor Armando Giuffrè della sezione di Messina. Rustica scambia con Viscuso, pallone ancora buono per il 7 che carica il destro, non c'entra però lo specchio della porta. Caltabiano gioca in aria per Di Natale che prova a girarsi, è un traversone perfetto per Rustica che supera Achille e manda avanti il Taormina. Alla seconda occasione buona la sblocca, la formazione di Ardizione. Rivediamo il movimento di Di Natale che ha pescato in aria rustica, perfetto qui di testa. Punizione dal limite per il Taormina sul punto di battuta strano che parte adesso col destro ribattuto. Ritrova comunque il possesso l'undici che prova la conclusione bloccata da parte di Chillè. Siamo dall'altra parte con una punizione per il Valle del Mela affidata al destro di Scattareggia che supera a Giuffrida e riporta in partita il Valle del Mela e 1 a 1 al Bacicalupo. Rivediamo il destro del 10, il tocco di Giuffrida non basta. Caltabiano trova Viscuso che scambia con Briganti, avanza quindi il 6. C'è il filtrante per Strano che prova a controllare col Mancino, poi appoggia nella zona di Di Natale. Arriva il tiro, non insidioso per Chillè. Si va al riposo su questo parziale 1 a 1 fra Taormina e Valle del Mela. Possesso per il Taormina, arriva il lancio profondo per Briganti che aggancia col sinistro, poi calcia! E riporta avanti il Taormina. Cambia ancora il parziale, adesso è 2 a 1. Rivediamo lo stop del 10 e poi il tiro che ha superato Chillè per il 2 a 1 del Taormina. Prima sostituzione per Ardizzone che inserisce Tosca al posto di Briganti. Arriva anche la seconda sostituzione con Peditto che prende il posto di Caruso. Rustica scambia con Viscuso, avanza il 6. C'è un tocco d'esterno perfetto per Caltabiano che carica il Mancino. Soltanto la rete esterna per il numero 3. Si gioca anche la terza sostituzione Ardizzone che manda in campo Freni al posto di Rustica. Altra partita importante del numero 7. E in avanti il Valle del Mela con Gerbino. Arriva la sterzata, poi l'appoggio per Scattareggia. Una finta del 10 che adesso può concludere col destro. Parata facile per Giuffrida. Rimessa laterale affidata a Peditto che scambia con Viscuso. Pallone buono ancora per il 16 che tenta un traversone. C'è l'aggancio perfetto di Strano, poi la conclusione! Non basta il salvataggio sulla linea. E 3 a 1 del Taormina convalida giustamente Giuffrè. Rivediamo il controllo del numero 11 e poi il tiro col destro. Ha provato a rimediare Niceta ma non è bastato. Esce proprio l'autore dell'ultima rete per lasciare spazio a Centorrino. Ultima sostituzione per il Taormina. Ciliberti prende il posto di Lorè. È in avanti di Natale. Ha un avversario davanti quindi si ferma. Gioca corto su Centorrino che adesso cerca spazi. Allarga benissimo nella zona di Caltabiano che controlla. È pressato, prova il tiro! Respinto e poi bloccato da parte di Chillè. Nuovo possesso per il Taormina che gioca sempre nella metà campo avversaria. Tocco morbido per Di Natale. Il controllo! Poi il Mancino che si insacca alle spalle di Chillè. Poker per la formazione di Ardizione. C'è anche la firma di Di Natale. Rivediamo il controllo del 9 e il tiro a botta sicura. Che ha superato ancora una volta Chillè. Gioca in verticale il Taormina. C'è una deviazione. Poi va a vuoto Salvatore Raffa che favorisce Di Natale. Che adesso è a 2x2 con Chillè. Si divora clamorosamente il 5 a 1 e il numero 9. Rimessa laterale per il Taormina. Lascia scorrere la sfera Di Natale. Poi arriva una sterzata. Perde il pallone il 9. Adesso lo recupera. Cerca un barco sempre Di Natale. Non si toglie la palla dei piedi. Poi prova il tiro. Che dopo un bacino al palo si insacca. Alle spalle di Chillè. Doppietta di Di Natale. E 5 a 1 per il Taormina. Rivediamo la progressione del numero 9 che ha giocato Di Suola. E poi si è spostato il pallone sul sinistro. Poi di nuovo sul destro. Piazzando il quinto gol alle spalle di Chillè. Carta riceve sulla destra. Alza la testa. Mette un pallone profondo sul secondo palo. C'è l'anticipo di Chillè su Centorrino. L'azione rimane viva. Prova a vincere un contrasto tosca. Ancora in avanti il Taormina. Qui vince un duello peditto. Che entra in aria. Carica il destro. Di un soffio a lato il suo tiro. Rimessa laterale per il Valle del Mela. Che prova a giocare in avanti. C'è però il colpo di testa. E alla fine arriva il triplice fischio di Giuffre. Terza vittoria di fila per il Taormina. La sedicesima in questa stagione. Su 17 partite giocate. Biancazzurri che quindi accedono alla terza fase della competizione. Da primi nel girone. E che nella prossima partita se la vedranno con il Don Peppino Cutropia.